In questo 2017 l'Amina ha inaugurato il nuovo showroom di Milano in Via Verdi 5, vicino al Teatro La Scala. Quando io e l'amministratore delegato Alberto Selmi siamo venuti in visita un annetto fa per abbandonare lo spazio di Via Mercato, ci siamo innamorati di questo spazio, non era tanto grande ma giusto per questi anni. Sicuramente tre o quattro anni qua, cinque forse, per noi saranno l'ideale. Circa un anno fa c'erano dei tappeti, era uno spazio espositivo di tappeti, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto i tappeti e abbiamo appeso le lastre. Adesso sto semplificando molto però abbiamo fatto alcuni lavori di restauro ma lasciando questa lure da loft con le colonne, il pavimento di legno antico, quindi mettendo quelle che sono le nostre superfici ceramiche appese ai muri, alle pareti. Per il salone ufficio Laminam ha realizzato la collaborazione con Tecno. Con Tecno quest'anno abbiamo realizzato questi interpareti, loro hanno un sistema di aggancio e accoppiano vetro a Laminam o anche altri materiali. Nello specifico adesso abbiamo per questa settimana questo, prima avevamo altre collaborazioni, si pensi che qui al fuori salone e anche dentro al salone del mobile abbiamo più di 80 partner che realizzano insieme a noi tavoli da lavoro, pareti interpareti e cucina. Cosa vedete qui è un modulato, è un modulato, è un modulato molto avanzato modulato che è sviluppato nel primo anno e questo è il prodotto finale. Quindi hai due moduli principali, uno è cubico in forma, uno è trapezium in forma. Con le turnare in ogni direzione, a 90 gradi, ricevete il prodotto finale. Puoi avere diverse varianti, quali che vuoi, dependendo da la dimensione di vostra cucina, vostre aspettazioni. Puoi aggiungere la città, un'acqua, 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 un'acqua e molti altri attività, come un'acqua, 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 un'acqua. Quali che vuoi, e puoi mettere in un'acqua. Puoi esce il materiale che laminam offre, che sono 140 materiali, colori, strutture. E poi puoi scegliere il materiale per l'interno, può essere un'acqua, può essere un'acqua, 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 e poi hai il prodotto finale. Poi hai la app speciale che abbiamo designato per il vostro mobile, per il vostro laptop, per l'ipad, e poi puoi operarlo. Laminam ha realizzato con un duo di architetti polacchi, la cucina perfetta per gli architetti, dove tutto è a scomparsa. È un bel concetto, una bella idea, questo rappresenta un monolite sospeso. È un progetto realizzato da questo duetto di architetti, in collaborazione con laminam Poland. Hanno realizzato questo monolite e al suo interno, nascosti come in uno scrigno segreto, abbiamo tutto quello che è la funzionalità di una cucina. Quindi dal lavandino sommerso, alla piastra riscaldata, al mobile bar che con un touchscreen viene a galla. Quindi è uno scrigno segreto, utilizzando solo lastre laminam. Qui la lavorazione è ad hoc, dopo la vedremo bene nei particolari, ed è proprio un applicativo di laminam vincente. Qui sono realizzati due spessori, il 12 mm per quello che è il top e il 3 mm per quello che sono le antine, quindi il rivestimento delle antine. E sono modul top, appunto quattro moduli, connessi tra di loro per creare anche questi scivoli, questi tagli in diagonale del monolite. È come una grande pietra lavorata, sfaccettata, che è piombata sulla terra. Questo è un po' il concetto del duetto di architetti polacchi. L'architetto, da quello che so, non ama tanto il rubinetto, il lavandino, l'accessorio, disturba quello che è il less is more. E loro hanno invece realizzato una cucina con il concetto di less is more, togliendo tutto e nascondendolo.